Cosa sta prendendo la cabuta? Nalega prendendo? Basti noge! Basti noge! Direttiva! Direttiva! Stai! 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 Concire un'altra parte. Concire un'altra parte. Concire un'altra parte. Tu sei inizio. Ci sono inizio. Probate il diretto. Robate il diretto. Vai la strana. bravo ectopo mati ictopo 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 Satori Bavamo a diretti, bravo! Tu è tu! L'alacco, vedi! Molacco, vedi! Bavamo a diretti! Non ci faccio! Gli uvi l'aria! Prezni! Prezni! Non ti faccio! Busti i li 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 li! Busti i li 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 li! Bravo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no E' notifici! Non è che le luci è bravo o no eh? Non c'è ma Roma! Non è difficile eh! Non è per tre e due normali! Guarda stango le feste non lo sai? Io cambio l'angolo eh! E' tipo lo fa maestro! Ma c'è pure Federici! Ma c'è pure Federici! No Federici Procco! Federici Procco! Federici Procco! C'è Timone! E' tenibile eh! E' un po' No, no, no. Sì, non ho ancora studiato tutti i comandi, al peggio non ce l'ho fatto fare un po' che... E la terza ripresa, round 3. Cioè non ho studiato niente, ora mi ha salvato. E? Mio gioiellino! Mi riesco a fare la scatola molto vigore. Grazie a tutti! 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 Direttare! direttare, direttare! einfachen drumack! dos énno! Un frato, un noltimo è tutto. Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, 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 Sì! 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 Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, 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 Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.